Grazie, grazie. Sono ancora con gli amici di Abbasanta, con Fausto Casula che è il dirigente del gruppo, del coro, insomma di tutta l'associazione culturale o proloque Abbasanta. No, 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 è un'associazione folco, città di Abbasanta, che comprende coro, concerto, gruppo di ballo e canto a chitarra. Ma avete tutto? Ah sì, abbiamo tutto, anche per dare un'unica soluzione, una panoramica completa di questa parte appunto della nostra cultura o tradizione, come la si vuole chiamare. Poi sei tanti anni che hai tenuto le redi nel mano, Fausto? Sono 15 anni ormai che... Ti conosco bene, lo so, hai fatto tanti sacrifici, però i risultati sono visti. I sacrifici li facciamo tutti perché tutti i gruppi, tutte le persone, non solo noi, ma tutti quelli che operano in questo settore sono soggetti a sacrifici, senza ricompensa e senza compensa e senza riconoscimento purtroppo, purtroppo neanche da parte di organismi provinciali, regionali in particolare. Comunque ce la farete lo stesso. Speriamo di sì. Quale ci fate sentire stasera? Noi faremo sentire un canto come coro, un canto che fa parte del patrimonio cronologo, del più conosciuto, non poto riposare il termine che tutti conoscono, poi eseguiremo Sueranu, che è un nostro canto, e poi Suballu de Abbasante. Tutti i canti che sono, diciamo, arrangiamenti o sono proposti come il caso di Sueranu e Suballu Abbasantesi dal nostro maestro Pietro Pau. Bene, io ti lascio con il tuo coro. E io ti ringrazio. Bene, comprimi. E io ti ringrazio. E io ti ringrazio. il canto di armonia che s'animo mi basa d'amoroso che un'arcana e dulce poesia che un'arcana e dulce poesia fare nende in tono genioso chissà che sia gara e sacco un noto mi ha chiuso, mi ha chiuso mi ha chiuso, mi ha chiuso e mi ha chiuso, mi ha chiuso mi ha chiuso, mi ha chiuso mi ha chiuso, mi ha chiuso Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 ci vediamo. a tutti. 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 a tutti.